C'è chiama, on c'è chiama, on c'è chiama Pronto, io sono il Parrino, ma quali donne con il Parrino? Senti una cosa, ho sentito dire che un certo Picarra e Ficone stanno cercando una location per il suo nuovo film, dici che il Parrino ci vuole parlare, perché il film deve essere girato a Porta Empedocle, come? Ci sono tanti altri paesi, a me non mi interessa, tu dici che il Parrino, appena vengono qua, ci fa fare un bello bagno a scala dei Turchi, poi ci fa fare una bella passata a mezzamarina, e una volta a mezzamarina ci offri poi un bello caffè, e dopo caffè ci fa un'offerta che non si possono rifiutare, come? fanno notizia, allora che fa? Ballano, lo dicevo io, stupicare Ficone a me non mi piace, come? tu, che deciste? Fanno film per la famiglia? Ah, bravi, bravi, allora digli che la mia famiglia è la loro famiglia, il mio paese è anche il loro paese.